Ciao a tutti, sono Melwer e oggi collaborerò nel canale di Koopalink. Mi occuperò di una parte di simbologia nei film, nei videogiochi, nei fumetti. Vi parlerò delle mie passioni. Sono una fotografa e mi piace esprimermi con ritratti emotivi. Di solito uso l'istantanea oppure la digitale, ma perché mi piace sia la fotografia analogica. Nel prossimo video vi farò vedere la mia postazione dove lavoro. Mi piacciono i film, di solito quelli un po' più simbolici appunto. Per questo voglio poi farvi un excursus e parlarvi dei film più caratteristici. Il film preferito è Eduard Manili Forbici. Ho anche un P.O.P carinissimo. Questo qui. Sono anche appassionata a Zelda, quindi alla Nintendo. Poi il mio film preferito, oltre a Eduard Manili Forbici, è Se mi lasci ti cancello. Vi faccio vedere il mio Blu-ray. Visto anche questo lo taglio. Comunque, ora vi faccio apparire il Koopalink. Ta-da! Lei si occuperà di un angolo tutto suo che si chiamerà l'angolo di Ava. Ah no, scusate, abigi, no, è MindWare, MindWare. Io sono quella stella. E grazie per la visualizzazione e ci vediamo nel mio prossimo video. Grazie per la visualizzazione e ci vediamo nel mio prossimo video. Grazie per la visualizzazione e ci vediamo nel mio prossimo video. Grazie per la visualizzazione e ci vediamo nel mio prossimo video. Grazie per la visualizzazione e ci vediamo nel mio prossimo video. Grazie per la visualizzazione e ci vediamo nel mio prossimo video. Grazie a tutti.